Gli abbiamo preso altri 20 secondi, non ci acchiappano più. Adesso vai piano, tranquillo, toccherà loro attaccare, noi dobbiamo controllare. Questi sono secondi, sono i nostri, sono i nostri. Ciò? Ah, ragazzi, veloci, veloci. Avete visto? Sono tutte consumate, non ci stanno più. Adesso mettiamo le G2. Ma non sono troppo deboli, sono le più veloci, abbiamo vinto tanti rendi. Marco, sta tranquillo, con queste gomme rischiamo, ma ti assicuro che è l'unico sistema per recuperarla. Va bene, va bene, forza. Veloci, veloci, veloci. Guarda che puoi guadagnare uno o due secondi per ogni prova speciale. Quanto? Uno e quattro. Ma che ci faccio con due secondi a prova? Marco Manerelli può succedere qualunque cosa e tu lo sai venire. Viero, hai fatto controllare la benzina. Sì, non ti preoccupare, stai calmo. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, avete fatto ragazzi? Un momento, devo stringere sui dati. Sì, non ti preoccupare, stai calmo.